Incredibile! Ma io ero già morto! Chissà dove nel labirinto, non ci trovavamo Quindi abbiamo dovuto uscire dal gioco E ricominciare in pratica da dove eravamo rimasti nella scorsa parte In pratica in questa parte cerchiamo di superare la parte co-op Ma ti farebbe comodo qualcosa? Un po' di card e qualcosa? Magari te lo dovevo prima dire Eh sì eh Sì ma sapevo dov'è un'altra cazzo Però vabbè Andiamoci Ci andiamo vabbè proviamo così Se moriamo ci andiamo E' un microcene di qua Vediamo un po' se questa volta riusciamo Ok Ok Sono in serie Per la nuclear La porta aperta Ma cazzo Ah vai Non era se mi attaccavano Cos'è successo? Ah non lo so Io sto cominciando a via Sto cominciando No Non schifo Ok ok Sai ti prendo Lo prendo allora Il bonus Vado a prenderlo alla cassa Eh no Stai lì perchè se io tipo muoio e poi dopo non riesco a rigenerarmi Eh ma dove ricompari? Ah al centro No perchè non avevi rotto il letto Se io tipo muoio è quando io muoio Va bene Eeeh Ah sei lì Fermati Sei di là da un po' Ah si 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 vedo Ok Vieni che prendiamo un po' di roba così Si sistemiamo forse se vuole No c'è una destra Vieni comunque Devi andare in fondo Non c'è lui No Gira tutto Gira tutto Dritto di là e poi sono qui Ah Tutto ciò mi distruggerà Non abbiamo fatto partire il cronometro Mi so Vabbè Stato dobbiamo superare quella zona Si esatto Quindi secondo me non ce la facciamo No infatti Cioè però E' impossibile Non l'abbiamo provato Io l'ho provato due volte Mi è venuto due volte di fila Infatti ho detto Ho detto Basta perché sennò poi direi troppo facile Serpentello E' qua? No è vicino Se mi ricordo e poi Perchè Ma Confidiamo Speriamo Perchè siamo veramente nella mente Eccolo No è qua Ah quella nel muro Si si è qua Quella nel muro Dimmi che l'aveva riempita C'è quella di sì Ok Due bistecche Siamo di nuovo in ballo 32 fecce Prendi un cazzo Prendi quel cazzo di Questa cazzo di Che cazzo è successo? Ah Prendiamo sta cazzo di cazzo La mettiamo da fuori Perchè la fuori? Ci mettiamo una bistecca Ah giusto Ci mettiamo una bistecca Cazzo di cazzo di cazzo Com'è che era? Le sicca? Eccè 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 Era il movimento del bambino Eccè Devo già mangiarne una Ma che cazzo Vinendolo? Sì Vinendolo? Vinendolo? C'è una cazzo anche qua forse No mi sembra troppo bello No 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 Andiamo per favore Sono stanchissimo Allo stremo Dove era Ron? Dove era Gondor quando era Gondor? Insomma Che cosa dobbiamo Gondor? Ci troveranno Ci troveranno Ci troveranno Loro lo sa Cazzo Devo già mangiare Si aspettano di noi Ah prendiamo anche l'altro di cazzo C'è un'altra cazzo Sì C'è un'altra cazzo E' in fondo va bene Sperando di averla riempita Ma se tipo noi andiamo direttamente No non possiamo Abbiamo abbastanza meglio Ok 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 Ci siamo fuori Io so già che non riuscirò mai a superare qualcosa Ce la faremo Dobbiamo farsa Sennò abbiamo finito l'ora in serie Beh c'è sempre la possibilità di volare Di rompere la porta No Perché comunque di là dobbiamo andarci Eh di rompere la porta Eh da sinistra Io sono arrivato Beh tu Ah io sto Beh io poi posso rompere la porta E andare da store orecchiniere da sopra Me ne muto Però il mondo l'hai spinto Non aspettiamo niente due Aspettati Ah io lo spino Questo rumore mi rende E' uno sling che mi aspetta Però Vada Magari corri Così entro notte ce la fai E' notte Potremmo dormire davanti Eh Ah cazzo ce la vediamo Oh Resiste al fuoco quella Ah si? Si Fa R2 su quella lì Per cinque minuti Però non so se è resistenza o immunità Non è immunità Sicuro E' resistenza Però forse non è Però forse riusciamo a nuotarne Allora le mangiamo Vedo una speranza Vedo un salvataggio Prima No Perché questa qua Vedo un salvataggio Dai Corri corri Dammi una E anche delle viste Caputtana Da Ok Ok Ci siamo Le spirali sono una delle attrazioni principali del parco Ci siamo Vecchio Sei carico? La mangiamo eh La mangiamo per poco Ah beh è l'ultima possibilità Beh però dovremmo fare Un salvataggio No E Dormiamola se ce la facciamo Prendo un letto Prendo un letto Prendo un letto Un limo letto No No Ce n'era uno Non dirmi che era bene preso Eh mi so che... Ah no Ce n'era uno Ok Che cazzo è successo? Ho paura che io mi sia perso Tu stai scherzando No no Ah no Siamo già dalla stanza Porca pittana A torri indieta Tu allora procedi qui a destra E poi vai a sinistra Sì da qua ci sono due Sempre a destra Sì da qua ci sono due Sempre a destra No è un vicolo cieco Sempre Ma basta Sti scheletri Merda Ah ecco qui No no Merda 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 Non possiamo Metti la cassa Mettici dentro tutto Non ce la fai Non mi sto perdendo Cazzo non mi son perso fino adesso Ok Ok Ci sono Sono quasi da te Ah forse qua Yes Stai Ok Eh Vecchio andiamo direttamente Eh Basta Non ce la faccio più Dove vedi qua? No allora di qua No di qua Vieni qua Che cazzo Di là sei sicuro Poi a sinistra C'è sto cazzo di scheletro che mi sape da vent'anni Eccoci qui No O la mela la mangiamo se prendiamo fuoco No 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 Non sprechiamola così E' la in fondo? No E' qua è qua Ma dove cazzo sei? Ah ci sono mostri dei paraggi Porca E' il ragno che mi ha fatto prendere paura La mela La mela No 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 Merda Oh mio dio No muoio 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 anch'io Crepa Non salvo E' morto? No E' ancora qui Ok Non mi fa dormire Io vecchio non so dove sono Ok ok Non so dove sono Aiuto Ehm Ah vai Ok E' la mia stella tua Le ho prese le ho prese le ho due Dimmi che... Si cazzo funziona Ok Vieni qua in stato sicuro Non casca... Beh spostiamolo Ah no non possiamo Perchè no? Perchè sennò non mi vicino a prendere più salatacchi Dai da qua ci dovrebbe comunque Vieni qua da mela Vieni qua da mela Vieni qua da mela E' una bistecca Dobbiamo farci a tutti e due poi eh Lascia due bistecchi qua Nella cassa Poi ci serve No proviamo tutta Facciamo tutta Quella che hai negli inventari Che puttana che non bruci il letto Che non bruci il letto No 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 Mi ha lasciato il burro Parto La mangia la mia da prima Merda vabbè ci sono in tensione Merda Vai 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 muoviti Oh Ma che cazzo è successo? Ammazza mi sono dietro di te Sono dietro di te No davvero ma che cazzo è successo? Io avevo la mela E finisce la lava E finisce la lava E finisce la lava Porca puttana mi sbagliasce anche l'effetto Porca puttana mi sbagliasce anche l'effetto Completamente Vaffanculo lava di merda Vaffanculo E andiamo Mi sto quasi dimenticando che stiamo facendo un video La bistecca Tu che l'hai appena presa Prendi le bistecche Diego Vabbè ne abbiamo tre quattro no? Vabbè abbiamo lato Voglio andare via Voglio andare via da qui Non me ne frega niente Oh Io mi vado a prendere le bistecche nel modo Giusto E' 23 video che siamo qui cazzo E' visto ancora non da poco Ah Che bella Per fortuna che hai messo quella mela Tra l'altro ne avevo già una io Però quando siamo morti Ok L'avevi fatta bene da dove? Guardi di lati Guardi di lati Ci sono i letti Perché è quello? Dai 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 Perché è chiusa? Perché è chiusa? Perché? No l'avevi aperta però L'avevo aperta Si o questo non va No l'aveva aperta nei video scorso Guardate i video precedente Se poi Minecraft te fa cagare Noi non è che possiamo fare chissà che E' una leva poi fissa Non è neanche da dire che si Quindi? Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ci siamo Abbiamo finito la parte più facile Non siamo messi a... No no Oh però basta Adesso la disegniamo all'inizio poi Dormiamola Si In fretta Ti do già due carni Grazie Tre Che bella l'amela d'oro Che bella l'amela d'oro Che bella l'amela d'oro Incantata Incantata Che botta di me No veramente Io pensavo fosse solo resistenza Abbiamo anche le casse Con otto bistecche Con otto bistecche Che pazza La previdenza Dormiamo E signori La parte facile è finita Complimenti Non usciremo mai dalla parte difficile Sappiatelo Gli diamo un preannuncio Si Un piccolo preannuncio Ecco sarà tutto Così Vogliamo arrivare a una stanza Vogliamo arrivare a una stanza Tanto qua portate a una stanza Beh Sarà una sola strada Questo sarà il labirinto No non è una sola strada Ok facciamo che La veniamo qua Io torno ai letti Ok no ci sono Vieni No no io torno ai letti La facciamo per bene la prossima volta E quindi niente signori Io vi ricordo come sempre Vi piaceva un bel ringrazio Un bel commento Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci si becca al prossimo video Che salve E ricordatevi sempre una cosa Ciao ciao